LUNEDÌ No, che palla è lunedì? Non ci voglio andare a scuola Martedì Tommi, hai studiato per la verifica di matematica di oggi? Ma Edo, cosa stai dicendo? Oggi c'è la verifica di fisica! Ma come oggi c'è fisica? Mercoledì No, almeno oggi abbiamo ginnastica e religione Così facciamo un po' di educazione fisica e poi preghiamo Meno male Aspetta Ma oggi interrogati storia GIOVEDÌ No, ce la faccio più, mi prego aiutatemi Non voglio andare a scuola VENERDÌ Ho finalmente l'ultimo giorno di scuola E da domani inizia il weekend Che palle, sabato io ce l'ho anche a scuola, no! Sabato Cheee Che culo di... Domenica Pronto? Tommi gli hai fatto i compiti per domani Nooooo Domenica Che c'è... C'è...